Un saluto da vostra moto bianconero, e si ragazzi domani c'è il verdetto, ma che verdetto? Il verdetto è stato contro l'Inter, domani abbiamo i Cagliari, ma non è un verdetto, perché il verdetto era da vincere contro l'Inter. Juventus 0, Inter 1, ancora sono arrabbiato per quella brutta partita dell'Inter, perché c'è stata una Juventus grandiosa che ha lottato fino alla fine, che ha giocato, ha dominato l'Inter, poi quella partita alla fine, come ha fatto l'Inter a vincerla? Perché si è chiusa in difesa e la Juventus ha fatto fatica. Ecco, però è stato un dominio Juventus, ma ormai la partita è persa, e quindi un saluto alla vostra moto bianconero. Domani affrontiamo i Cagliari, e quali saranno i probabili titolari? Ecco qua, ve li dico io. Allora, partiamo subito dai portieri. Noi, in squadra, quanti portieri abbiamo? Free, tre portieri, tra cui Cesni, che sta veramente migliorando, molto forte, ma veramente Cesni sta parando un sacco di rigori, e quindi è veramente una cosa molto positiva da parte di Cesni. Poi Perin e Pinsorio di sostituzione. In difesa abbiamo Chiellini, ricordiamo che Chiellini e Bonucci ormai si sono fatti vecchi, ancora giocano, purtroppo essi ho capito che sono stati sempre i due grandi difensori della Juve, dell'Italia, però la Juventus ha bisogno di giocatori, di difensori giovani, di giocatori giovani. Basta con questi anziani, basta comunque Chiellini, Bonucci, Matthijs de Ligt, Danilo Quadrado, che sta migliorando anche lui, Alexandro, Pellegrini e infine Rugani. Come centocampisti abbiamo Artur, e io dico Artur, tu nel Barcellona hai giocato tanto, hai segnato tanto, perché nella Juve non giochi? Ma la domanda è stupida, perché è Artur deve dire che è la Juve che non gioca, perché non è colpa di Artur, non è colpa di Artur. Se Artur non gioca nella Juve, gioca nel Barcellona, vuol dire che c'è un motivo, nel Barcellona c'è il gioco, nella Juve non c'è il gioco, non esiste, non esiste. Ecco, Artur, centrocampista, poi è stato Pjanic, Barcellona, Artur, Juventus, è la Juve che non vuole giocare, perché se gioca, sebbene, Artur sarebbe un genio. Poi abbiamo Bernardeschi, abbiamo Zaccaria, che è un ottimo giocatore, e sta trovando nettissimi miglioramenti come Rabio e Bernardeschi, infine abbiamo Miretti. E poi come attaccanti non ci sarà Morata, ma ci saranno bensì Vlaovic, Dybala e Moseken. Contro i Cagliari penso che siano questi dei buoni titolari da parte della Juventus, non so quali invece dei Cagliari, comunque si aspetterà tutto domani, per capire davvero se la Juventus possa sperare in qualcosina, perché la Juventus non si deve basare sulla vittoria dello Scudetto, perché lo Scudetto non lo vinceremo neanche quest'anno, non importa, ma si deve basare almeno di entrare tra i primi quattro in classifica. Vi ricordiamo che nei primi quattro abbiamo l'Inter in Milan, in Napoli, e penso anche la Juve, e poi non so perché c'è la Juve, bisogna stare neanche all'Atalanta, la Roma, la Lazio, e quindi stiamo attenti. Però ragazzi, c'è una Juventus, tanta rimonta, tanto gioco, eravamo partiti davvero davvero male i primi giorni del campionato, poi a gennaio siamo ripartiti verso dicembre a forte con gli acquisti di Vlaovic e tutti gli altri, la Juventus da un picco così si alzata subito, si alzata subito, un picco alto, 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 arriva fino al cucuzzolo della montagna e poi c'è una valanga di neve che butta tutta la Juventus ai rotoli. Eh sì, una bellissima metafora. Ma Bianconeo, ma che stai a dire? Ma cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Perché la Juventus davvero, in questi ultimi mesi, ha giocato davvero bene. Ha giocato bene e poi è arrivata, sì, molte rimonte, una grande rimonta a parte della Juventus, ha continuato a vincere meritatamente e nettamente le partite, poi è arrivata l'Inter che con un calcio di ruote di Cianoglu alla destra del portiere, Cesni, la prima volta l'ha parata, la seconda volta l'ha intuita, perché sennò si prenderà anche una seconda a questo punto al centrocampo. Eh, i tifosi juventini dovevano costruire una bella strada di Cesni, d'oro, e così la vittoria è la nostra. Ma ovviamente il calcio è strano, il calcio ci offre tantissime cose e il Bianconeo dice non tocchiamo mai il fondo e a domani con lo scredo.